visto che abbiamo qua imbarazzo il rosso e io vivo da qualche giorno con quell'incubo alle 10 di sera e guarda caso sono le 22 e 18 sempre sono passate esattamente 24 ore e 18 minuti io credo che sia arrivato il momento no ragazzo certo certo allora chiedo alla regia non so se abbiamo la grafica compilata della rosa del rosso il nuovo presidente degli outsider prego regia che squadrona che cazzo è? metti a fuoco no no non c'è un cazzo da ridere ma cos'è questa roba non è di spiegare oggi mi hanno chiesto di appunto lasciare la formazione con la rosa e io vabbè come sapete sono un po timido mi sembrava successivo di impiare direttamente la rosa però se volete posso posso fare un piccolo spoiler e dire uno degli acquisti che ho fatto no ma tu la devi dire tutta la roma abbiamo gli hotel da fare i treni ragazzi ma sono soldi no ma gli ho datti a dietro vabbè fai sto nome no no adesso allora o mi dici tutti i 12 giocatori oppure bisogna intervenire qua buttiamo fuori no la rosa non riesco davvero è un blocco c'è un blocco intestinale quando non riesco un nome faccio un cosa un nome e dillo sì tu per me le puoi dire tutti ci credo io mi fido negli outsider o meglio il rosso acquistato per gli outsider balotelli ma ragazzi salutiamo il rosso non può giocare no ma sta giocando è vero mi sto giocando addosso no 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 sono serio no vero gioca in turchia balotelli impossibile allora te stai giocando in turchia è enok ragazzi è fortissimo è un bel nome però è enok balotelli ma lui lo sa wow l'ho avvisato la settimana scorsa vai chiamalo in diretta io no non mi fido più però chiamiamalo in diretta magari magari speriamo risponda pronto c'è il puma la voce è qua con noi spero sia incredibile bro non so se si sente andrei enok sono in live una cosa una cosa velocissima ma il rosso a te ti ha chiamato per la got league e tu gli hai detto di sì vengo a posto grazie grazie mille scusa il disturbo ciao 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 che giocata del rosso hai sempre dubitato del mio uomo bravo complimenti Griezmann chi no non è Griezmann no no gli altri sono tutti segreti sono timido vabbè ho già detto un nome dai passo passo per passo hai chiamato solo lui dai dicene dai i tre dei draft ce li hai eh sì ne hai tenuto un altro della vecchia squadra come si chiama quello ricciolino eh vabbè vabbè uno la devi tenere aspetta aspetta come si chiama ma chi chiedi ma chi chiedi che non c'è nessuno camera man camera spider man eh spad vabbè lui fabio zetta fabio zetta esatto allora enzo per favore se lo puoi raccomando cioè vuoi fare qualcosa di performativo per chiedere scusa una ruota una spaccata una verticale io so fare fammi il balletto che mi ha fatto l'altra sera no no bam Oh fammi il balletto... Per forza, la proposita... Per quello? Si, si, andrei bellissimo! Ma se vuoi fare qualcosa anche... Grazie... Famolo vedere... C'è qualcosa... Si puoi anche cantare però da fermo... Si può mettere... C'è una base tipo? No, non c'è una base... No, 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 no... Tu non metti giocatore... No, ma fa bene, vuole farla bene... Per quello, volevo concentrarmi... Ma a cappella? Vuoi un beat? Ok, mi piace a te... E poi fa partire il suo applauso... Grandissimo! Enzo, scusa... Enzo, da cantante cosa faresti in questo momento? No, imbarazzante... Che cazzerita! Dai, mandalo via Enzo, portalo fuori tu... E qualcuno porti fuori Enzo! Venti di andare a scrivere la rosa... Entro fine puntata... Dobbiamo avere tutti i nomi, per favore... Allora, andiamo finché ci siamo... Cosa sta facendo... Cosa sta... Che succede? Che cosa sta succedendo? Eh, sempre questo piede di mezzo... Grazie Enzo, grazie mille... E un applauso metaforico... Applausi... Che succede? Che succede? Che succede? Un'applausi... Che succede? Che succede? Che succede? Grazie a tutti